Buongiorno a tutti, oggi presentiamo Samsung serie 9, una linea di notebook destinati alla mobilità. I prodotti sono disponibili in due tagli per quanto riguarda il display, da 13.3 pollici e da 11.6 pollici. In particolare il modello da 11.3 pollici, quello che state vedendo in questo momento, ha uno spessore di soli 16 mm e un peso di soli 1.31 kg, quindi parliamo di macchine veramente ultra mobile. Per quanto riguarda la dotazione standard del prodotto abbiamo la tecnologia di processore Core i5, RAM 4GB con tecnologia DDR3, USB 3.0, una USB 2.0, HDMI per fruire di contenuti audio e video in alta definizione, batteria 6 celle ai polimeri di litio e Bluetooth 3.0 ad alta velocità. Il touchpad è allargato, 98 x 67 mm, tastiera retroilluminata e display con una luminosità di 400 nits, con una gestione fino a 16 milioni di colori. Il display è l'81% più luminoso rispetto al display standard che troviamo sui notebook a scaffali in questo momento. Il disco è da 128 GB allo stato solido SSD che ci garantisce o comunque che contribuisce ad allungare quella che è l'autonomia della batteria fino a 6.5 ore. Questa invece è la versione da 11.6 pollici, quindi sempre equipaggiata con un display a LED, retroilluminato LED in HD ultra sottile. Batteria sempre ai polimeri di litio come il fratello maggiore da 13.3 pollici. Tecnologia di processore Intel Core i3 a bordo di questa macchina. USB 3.0, una USB 2.0, HDMI per fruire di contenuti audio e video in alta definizione, batteria a 6 celle ai polimeri di litio e Bluetooth 3.0 ad alta velocità. e poi in qualche maniera dare spazio al gioco.